Io sono molto felice, non lo dico per cosa, ma avendo fatto parte di un certo mondo per tanti tanti anni, parlo del mondo dello sport e di genere, di calcio in particolare, sono felice di vedere una squadra che contribuisce a portare una città vicino al suo ospedale. Una volta qui in Lombardia gli ospedali erano della città, la gente li sentiva come proprio, se voi andate al vecchio Sant'Anna che non fa eccezione in questo, trovate delle quadrerie di tutti quelli che hanno contribuito con donazioni, perché la gente lo sentiva come qualcosa che faceva parte del tessuto sociale. Io non passo la parola agli altri, ringrazio ancora tutti per il bel gesto, spero che questo insieme a tanti altri, che vedo succedere qui dai concerti che facciamo giù, donati da personaggi del Tomasco, è molto bello, continuate così perché noi abbiamo bisogno di voi, augurandovi di non avere mai voi bisogno di voi. Grazie.